A poche ore dal colpo a Sansepolcro nella villa del Presidente di Arezzo Fiere si registra un nuovo clamoroso furto in Valtiberina. Questa volta è stata l'azienda Orafa di Giovanni Fornacini di Andiari ad essere stata presa di mira da una banda di ladri specializzati che ha agito in piena notte. L'ha sgradita sorpresa questa mattina quando è stata riaperta la struttura prima della ripresa della normale attività. I ladri sono riusciti a eludere il sistema di sorveglianza. In poco tempo hanno portato via il materiale prezioso presente pronto per la successiva lavorazione. Non è rimasto che segnalare la cosa ai carabinieri che si sono precipitati sul posto per raccogliere la denuncia e iniziare le prime indagini. In gente il valore del materiale asportato. Non c'è dubbio che la situazione in tutta la zona stia degenerando nel giro di pochi giorni da Monterchi a Sansepolcro. Passando per Andiari le azioni malavitose si sono moltiplicate soprattutto ai danni di aziende e singole persone. L'ultima azione criminale che si è svolta ad Andiari conferma come la guardia debba essere ancora più alzata.